La Procura ha avviato un'inchiesta sulla scuola antisismica di Colleatterrato Basso a Teramo. Il complesso non è ancora aperto ma già al centro di un'infinita polemica, proprio per il mancato rispetto dei tempi di riconsegna e sui lavori ad oggi non ancora conclusi. Nell'inchiesta firmata dal sostituto procuratore Stefano Giovagnoni ci sono tre indagati, tra cui due privati e un tecnico comunale. La Procura ha già delegato la polizia giudiziaria all'acquisizione di numerosi documenti che sono stati presi negli uffici comunali e che ora sono all'esame del consulente tecnico dell'autorità giudiziaria. Questa scuola ha avuto un'inter abbastanza complicato e ultimamente già da qualche mese c'è un'ulteriore attività di approfondimento dell'autorità giudiziaria che sta facendo delle verifiche e che sicuramente nell'attività di approfondimento degli atti ci potrebbe essere un ulteriore ritardo. Fermo restando che tecnicamente credo che sia una cosa più sull'affidamento dei lavori, sull'appalto originario che non sull'attività in cui ci troviamo oggi. Siamo stati a fare le immagini in una scuola che possiamo dire è terminata quasi? Terminata no, terminata no, ci sono ancora dei lavori da eseguire, stiamo preparando una delibera per approvare un progetto di completamento. Appena saremo pronti con questa attività, affermo restando che ovviamente le nostre attività non devono andare a confliggere con quanto sta facendo l'attività giudiziaria, procederemo alla conclusione dei lavori. Oramai possiamo dire che l'auspicio è quello di aprire la scuola a settembre? Gli auspici con una tempistica sarebbero domani mattina di poterla riaprire, i fatti reali sono che speriamo di poter arrivare a settembre e di avere la scuola perfettamente funzionante. Grazie. Grazie.